ciao ariete benvenuto andiamo un po' a vedere il passaggio di venere il pianeta dell'amore dell'amore della dolcezza della fortuna un pianeta bello diciamo che può fare la differenza nel nostro cielo se farci stare bene o farci stare o farci stare male dunque durante il mese di luglio dal giorno 18 venere uscirà dal segno dei gemelli ed entrerà in quello del cancro quindi una venere molto più comunicativa molto più se vuoi anche un po' nervosetta un po' boom 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 3.000 cose 400.000 pensieri 40.000 comunicazioni cambierà cambierà tono si tinteggerà si colorerà più di emozioni più di emozioni più di sentimenti si farà più affettuosa più avvolgente più dolce più premurosa in soldoni tradotto tutte le comunicazioni le conoscenze ciò che avete fatto e stabilito nel mese indietro insomma giugno e anche appunto la prima metà di luglio si potrebbero concretizzare stabilizzare da adesso in poi dal 18 di luglio in avanti fino ad arrivare circa alla metà di agosto data in cui venere poi passerà nel segno del leone lì lo scenario cambierà cambierà ancora quindi dicevamo ecco venere in cancro e proprio nel suo elemento no quindi il pianeta dell'amore nel segno dell'amore passami il termine ma amore proprio a 360 gradi come vi dico io questo questa venere in cancro e dolce e affettuosa e materna ora cosa mi fa vedere questa venere così dolce così materna così desiderosa bisognosa di di coccole di abbraccio di carezze mi vede un sole o un ascendente in ariete se tu sei un ascendente ariete o un ariete questo cosa mi dice qui ci potrebbe essere per te ariete un periodo in cui ti potresti un po scontrare con questi bisogni profondi di affetto di amor in soldoni magari stai vivendo vivrai un momento in cui ti sentirai più desiderosa o desideroso uomo donna che tu sia non so di essere abbracciato di avere una coccola di avere una parola dolce in più di avere una manifestazione d'affetto in più qui ci potrebbe essere chi invece sarà un pochino più rude verso di te nei tuoi confronti che non di quello che tu spereresti tu ti augureresti te in altre parole magari tu sei circondata da persone o un compagno una compagna insomma vedi te naturalmente la tua vita capisci che ti voglio dire quindi molto più molto più sbrigative molto più ecco invece te magari tu sentiresti un pochino più il bisogno della coccola della carezza della rassicurazione dell'affetto ecco qui c'è un po' ora vediamo naturalmente anche con le mie carte con i miei tarocchi cosa vedono questo periodo che abbiamo detto andrà dal 18 dal 18 di luglio al vediamo dove esattamente il giorno fino all'11 11 12 d'agosto circa venere cammina nel segno del cancro ora questo cosa mi dice ti ricordo che ho fatto l'oroscopo del mese di luglio per il tuo segno zodiacale quindi vattelo a cercare qui sul canale che lo trovi qui guardiamo solo venere ok quindi qui durante questo periodo questo passaggio di venere nel cancro qui io vedo un ariete se fin qui magari era molto più come ti posso dire concentrato focalizzato ai contatti alle conoscenze alle comunicazioni ora lo vedo più concentrato sul proprio relax sulla propria casa la propria famiglia il proprio benessere il proprio nido quindi magari in questo periodo ti posso vedere alle prese non so per esempio se tu sta cercando casa o se tu devi cambiare l'arredamento di casa tua oppure ancora qui ci può essere un familiare che ne so io un figlio o comunque qualcuno in casa in famiglia che avrà bisogno di te di te delle tue attenzioni e quindi del tuo tempo viceversa potresti anche essere te ora poi capisci qui dipende dal tema natale di ognuno di noi va bene in dove mi va a cascare il transito però molto parlando molto genericamente qui può essere come ti stavo dicendo o qualcuno in casa in famiglia o la casa stessa avrà bisogno della sua attenzione rubandosi fra virgolette del tempo del tempo peraltro o viceversa tu potresti essere te che tu potresti aver bisogno di qualcuno o potresti sentire quel bisogno nel cuore quel desiderio quel bisogno d'amore oceanico però o di riffa o di raffa qui ti arrivano tutti a baia visto anche papa francesco ha parlato dell'abbaiare della nato alle porte della russia ecco qui ci può essere qualcuno che ti abbaia contro passami termini non so come meglio spiegarmi quando una lì poverina desiderosa magari di essere riconosciuta ad essere abbracciata ad essere coccolata ti arrivano tutte ecco quindi un momento un po nulla di un succede nulla per l'amor di dio però per dire no ecco un po un po questo tutto questo potrebbe accadere come ti ho detto anche dentro di te o in casa e famiglia ma anche dentro di te quindi da una parte sentire una parte che ti tira essere bello assertivo no la dieta visto come piglia parte a razzo stium si infila si mette un obiettivo un test anzi un ciò di a neanche alla testa quando l'idea arriva alla festa l'ha già fatta la riete no capito boom 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 è l'inizio no è la partenza di tutte le cose e poi dopo strada facendo dice ma chi me lo fa fa ecco quindi c'è un po questo questa cosa questa cosa qui ma vediamo un pochino le carte che cosa che cosa ci dicono capito ariete quindi ecco un periodo poi ti ripeto nell'oroscopo proprio di luglio guardo tutti i transiti quindi ti invito ad ascoltarti anche quel video lì ok allora vediamo questa venere in cancro venere in cancro cosa porterà al segno zodiacale dell'ariete venere in cancro cosa porterà all'ariete venere in cancro eccola la identifio health related fears allora qui ci sono delle paure e usa la tua saggezza qui mi parlano ci sono delle paure che riguardano la salute ora io della salute un parlo perché io non mi interessa non la guardo per l'amor di dio la salute in tutti i sensi in tutti se anche la salute mentale quindi qui ti invitano a ricercare a ricercare a le sue paure da dove vengono le paure che te senti dentro di te qui mi parlano paure relative alla salute ma io ci posso leggere anche paure relative alla salute mentale cioè il tuo benessere psicologico mentale da dove arrivano queste paure queste fissazioni queste angosce dentro di te la carta ti invita ad identificarle a cercare di capire da dove arrivano quali sono e perché arrivano effettivamente la seconda carta parla di usa la tua saggezza no e fanno vedere la il personaggio con la candela che cerca nel buio no che cerca di illuminare di fare luce di fare luce nel buio o comunque di fare luce su un problema su questo problema qui quindi nello stesso momento poi fra l'altro si parla anche di venere guarda caso nello stesso momento ti possono anche dire guarda verrà fatta chiarezza verrà fatta luce su un qualcosa capito che ti spaventa che ti fa paura io non lo so che cos'è che tu hai in mente quali sono perché qui parla di paure non parla di salute o di cose vere io vi ripeto non ne voglio parlare qui che poi non lo dice qui dice identifica le sue paure relative alla salute quindi tu ha una paura dentro di te di un qualche tipo ok poi lasciamo via la parola salute paure ok identifica e qui viene fatta chiarezza su un qualche cosa vedi quindi già ti posso anche ti posso anche dire guarda potresti venire a sapere qualche cosa potresti venire a conoscenza di un qualche cosa ok ma vediamo i tarocchi vediamo per il segno zodiacale dell'ariete questa venere in cancro cosa porterà venire in cancro per il segno zodiacale dell'ariete cosa comporterà il passaggio di venere in cancro cosa porterà al segno zodiacale dell'ariete il passaggio di venere in cancro fra luglio e agosto 2022 cosa porterà al segno zodiacale dell'ariete vedi guarda il diavolo il 5 di denari cosa porterà il papa la torre rovesciata la giustizia e il 4 di denari interessanti ma allora qui con questo diavolo guarda qui c'è il serpente qui c'è il diavolo e ariete qui che tu c'hai qui c'è un qualcosa che ti sconfinfera sicuramente una paura un timore di un qualche tipo qui ce lo stanno dicendo ce lo stanno dicendo da tutte le parti è una paura un timore di un qualche tipo vedi qui c'è la torre capovolta quindi qui potrebbe essere successo un qualcosa che ti ha un pochino destabilizzato capito dico successo perché qui secondo me già qualcosa è accaduto ma qui diciamo in special modo quello che mi fanno vedere quello che vedo sono delle paure delle fissazioni quasi mi verrebbe da dire che tu hai non so potrebbero riguardare qui mi parla della salute ma mi potrebbero riguardare proprio anche il lavoro la sua posizione lavorativa la sua posizione economica ci sono qui molti denari cioè qui c'è un qualcosa ma è una fissa proprio capito sta diventando proprio un'ossessione quasi questa cosa che cos'è quel diavolo cos'è quel diavolo per la riete vedi qui c'è un'ossessione un'ossessione una fissazione vi siete fissate su un pensiero ariete e non riuscite a staccarvi da lì e la cosa è nociva quindi dovreste tentare quantomeno provare di pensare ad altro di mettere la vostra attenzione su altro perché sono pensieri proprio ossessivi che ti tengono proprio inchiodato lì capito io qui ci vedo il lavoro un discorso proprio economico ma non escludo anche magari la la fissazione su una persona su una come si chiama su una su una relazione in particolare specifico fammi un po vedere ma e perché tu sei arrabbiato si non ho capito io c'è qui c'è una riete proprio incavolato nero qui c'è molta preoccupazione per qualche cosa io ti vedo come se tu dovessi controllare spasmodicamente qualcosa o qualcuno che tu va a vedere tu guardi tu cosi tu ti arrabbi tu ti disperi io c'è qualcosa ariete si vede che questa venere in cancro ti acuisce diciamo questa questo sentimento questa situazione poi la situazione la si va naturalmente a sistemare la si sistema insomma però qui fanno vedere proprio che c'è molta molta rabbia quindi qui ci sarà una situazione che grazie fra virgolette a questo transito va a smuovere va a toccare magari delle corde che ti faranno anche un pochino nervosire a riesce capito fammi vedere qui c'è molta ansia molta ansia molto nervosismo non si sa se lascia perdere una determinata situazione oppure insistere c'è molta molta rabbia e anche desiderio di possesso come a dire capito qui c'è voglia di vittoria di superare qualcosa qualcosa o qualcuno quindi per esempio se si tratta di una situazione extra di amanti cosa probabile da quello che vedo c'è questo desiderio come dire io devo conquistare l'altra persona cioè capito devo vincere sull'altra persona devo essere io quella più importante non so se mi spiego ecco qui vedo vedo un pochino questo però insomma qui fanno vedere una situazione che non è niente niente male per te qui secondo me tutto guarda tutto mi parla di pensiero ariete quindi nella pratica un tunna nulla da stare così con tutte queste spade capito però molto è nella tua mente qui se vuoi mi parla di mente perché mi dice usa la tua saggezza capito la tua saggezza non il tuo impulso il tuo istinto qui mi parlano di pensiero anche qui paure pensieri un po angosciosi il diavolo uguale mi parla di una fissazione questo uguale mi parla di pensiero di mente di di testa tutte queste spade anche quindi tu mi capisci insomma qui praticamente c'è una riesce che sta tentando di tenere tutto sotto controllo una situazione sotto controllo però ogni riesce quindi qui io direi di usare ascoltare l'invito di questa carta ma anche di venere del transito di venere poi con il passaggio in leone che vedremo in agosto le cose cambieranno allora lì ci sarà una venere trigono al sole eccetera capito ok però almeno durante questo passaggio cercare di anche qui se vuoi c'è la festa anche qui con questa torre capovolta cioè qui c'è la festa che dà un pochino i numeri nel senso non i numeri nel senso qui c'è una fissazione di un qualche tipo quindi bisogna che la riete tagli questo pensiero troppo angosciante troppo ok quindi pensare e pensare ad altro vatti a fare una gita in campagna a fare una gita a qualche parte magari con qualcun altro ecco ripeto che si parte di lavoro o che si parli di un rapporto affettivo che vedo anch'esso in queste carte qui diciamo ecco c'è un periodo un po' come ti posso dire non stressante però ecco in cui ti vedrà con dei pensieri proprio fissi qui c'è un qualcosa nella mente da cui ti riesce distaccato è un pensiero che può diventare anche tossico poi alla lunga perché insomma come si dice le fissazioni le ossessioni bene le non fanno a nessuno no vediamo un attimo qui se mi danno un altro paio di carte vediamo per la riete il transito di venere in cancro il transito di venere in cancro cosa significherà per la riete guarda I am connected quindi sicuramente le comunicazioni e il però vedi proprio il cambiamento e qui fanno vedere proprio la pelle come si dice del serpente che cambia quindi senz'altro qui ci sono dei cambiamenti ma anche dei pensieri dei pensieri che sicuramente vedi è un poco richiama molto no questo diavolo quindi lo scorpione quindi qui ci potrebbe essere anche un contatto con qualcuno del segno dello scorpione ma anche un gemelli qui vedo molto gemelli e scorpione in questa stesa sinceramente quindi magari potreste avere a che fare con una persona o più di una persona scorpionica ad esempio scorpionica gemellare quindi mi fermo qui se no qui parlo tre giorni comunque qui quello che c'è a riete il nocciolo vedi se riesci a tenerlo a bada almeno per questo periodo un pensiero ossessivo un pensiero ossessivo che devi trovare il modo di tagliare usa la tua saggezza e vedi di staccarti da questa situazione che ti tiene insomma sul Kibbalah va bene? un bacione e al prossimo video ciao ariete eccoci qua vi lascio ai miei vi... no ciao ariete ciao ariete